Io volevo chiederle della situazione a Chiaia perché questa mattina è emerso di una maxirissa e di problematiche, i comitati chiedono più sicurezza, ci sarà anche un tavolo tecnico con la prefettura? Sì, se può rivolgere questa domanda al prefetto e al questore è meglio, perché il sindaco, salvo che nel decreto legge non abbiano introdotto anche i poteri speciali di sicurezza in capo al sindaco, io sinceramente se c'è una maxirissa non posso che essere dispiaciuto, non posso che rammaricarmi, non posso che chiedere il massimo impegno alle forze di polizia, però cominciamo anche un attimo a distribuire i ruoli. Se c'è un tema criminale la domanda va posta correttamente al signor prefetto e al signor questore.